Musica E' stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali e è accaduto oggi, lunedì 13 novembre, intorno alle 18 a Veneria Reale, sull'attraversamento pedonale situato tra via Fabio Filzi e Corso Garibaldi. Una rena scenic ha investito una donna, un'ottantenne di Veneria, e l'ha trascinata per una decina di metri prima di fermarsi e prestare soccorso. Sul posto sono subito intervenuti la Croce Verde e gli agenti di Polizia Municipale. La donna, che nella caduta ha battuto la testa, dopo essere stata stabilizzata, è stata portata in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria.